ed eccoci siamo ritornati in studio siamo come sempre ad angoli per chi non fosse stato con noi dall'inizio di questo appuntamento vi ricordo come sempre come restare in contatto con la nostra redazione molto semplicemente basta scrivere una mail al nostro indirizzo angoli chiocciola espansione tv punto it e come promesso visto che questo è l'ultimo appuntamento per il 2017 e quindi siamo a ridosso del capodanno e bisogna festeggiare quindi ci vuole un dessert straordinario e come dico appunto quando si parla di queste cose meravigliose c'è marzia arriva qui in studio da noi grazie marzia ben ritrovata ciao ricordiamo sempre ormai tu sei amatissima e conosciutissima sei chef sei blogger di cucina c'è la tua pagina facebook oggi ce l'hai anche sul tuo grembiule la tavela degli arna lì ci sono tutte le sue ricette quindi potete ovviamente riproporle anche sul sito insomma come volete ma per chi è molto social la pagina facebook assolutamente perfetta e come sempre non sei sola ma c'è la dottoressa giovanna perrone ciao giovanna grazie per aver trovato il tempo anche in questo periodo di festa insomma di venire qui da noi per regalarci dei suggerimenti preziosi perché ricordiamo tu sei medico specialista in scienza dell'alimentazione allora come ho detto siamo ormai arrivati al momento del grandissimo festeggiamento il 2017 sta per finire parte un nuovo anno quindi dobbiamo festeggiarlo con un dessert allora andiamo subito al nostro tavolo magico e vediamo che cosa ci vai a preparare ecco qua allora cosa c'è stasera questa sera un tiramisù un po particolare bene ok il l'ho immaginato rosso perché è capodanno perché è capodanno perché è capodanno assolutamente rosso è un colore che porta bene porta amore porta calore porta tante cose insomma che tutti aspettiamo e quindi vive rosso esatto ok ho pensato di abbinare i frutti di bosco a del cioccolato e alle mandorle con cui ho realizzato una ricotta per cui dal latte di mandorle ho frullato le mandorle che avevo tenuto in ammollo ho ottenuto un latte che poi ho portato a bollore e cagliato con il succo di limone a questo punto lasciandolo tranquillo a riposare affiora tutta la cagliatura che io ho recuperato esattamente come si fa con la ricotta vaccina solo che io ho usato le mandorle di partenza sai che io ti chiedo sempre i tempi di queste realizzazioni un po particolari perché per chi come me insomma è poco abile nella cucina ma sto diventando bravina evviva quanto tempo bravina quanto tempo ci vuole allora a preparare la cagliatura in un 20 minuti l'hai fatto poi più tempo riposa e sgocciola in un chinoasa quindi in un colino a maglie fitte più diventa densa e quindi sarà più lavorabile una volta che poi fai conto che io l'ho tenuta 4 ore lì tranquilla a riposare e ho ottenuto questo prodotto che poi ho insaporito con della vaniglia e dello sciroppo d'agave per addolcirlo leggermente perché non manca mai insomma l'interpretazione anche tua personale che ci piace davvero tanto e invece per quanto riguarda questo... questa è una torta questa torta esatto è un pan di spagna che io ho steso su una placca e quindi ho lasciato come se fosse un biscuit quindi è morbido cotto proprio 8 minuti in forno e è una torta volendo possiamo fare il classico pan di spagna e poi lo tagliamo a fette che io ho realizzato al cioccolato perché... perché ci sta certamente perché ci sta e bisogna festeggiare poi ho preso dei lamponi che ho semplicemente frullato con un po' di succo di limone e sempre una punta di sciroppo d'acero per dargli un gusto e poi l'ho filtrato in modo tale da avere una salsa quindi anche questo è un prodotto molto naturale molto naturale non c'è nulla assolutamente nulla vedi è proprio solo i lamponi che ho frullato le ho frullate... più o meno quanti lamponi devi utilizzare per ottenere ecco in questa proporzione così poi le esperte signore da casa si regolano anche per avere questa consistenza allora ho preso la classica vaschetta che possiamo trovare anche al supermercato quindi i 250 grammi di lamponi che ho frullato e ho frullato a lungo fino a ottenere questa consistenza ho messo un pochino di succo di limone così ho fissato il colore e poi l'ho filtrato attraverso il colino per renderla così cremosa e togliere tutti i semini a questo punto io la metto in maniera un po' disomogenea sul piatto per te disomogenea, per me invece è artistica sai che io apprezzo sempre tanto questa tua capacità di impiattare con tanta fantasia e insomma con tanta voglia di fare festa quindi molto bello come sempre poi prendiamo le nostre fettine di pan di spagna che intanto avevamo preparato come abbiamo detto anche qui sai che io tengo molto come dire alle quantità perché io sono golosa quindi in un piatto a testa vedo che tu ne hai immaginate tre quindi questa secondo te è poi la quantità adatta allora adesso facciamo proprio una torretta per cui andiamo a creare quello che può essere il nostro tiramisù quindi hai messo questa crema che ci hai raccontato poco fa esatto che hai preparato come abbiamo sentito anche qualche ora prima esatto anche il giorno prima possiamo farla tranquillamente è conservato tranquillamente nel frigorifero esatto l'avevo già messa nella sac à poche così almeno ero più comoda per poterla utilizzare e quindi abbiamo il nostro tortino volendo la torta la possiamo bagnare con un po' di caffè proprio come il classico tiramisù tiramisù oppure aromatizzare con un po' di caffè normale perché tu insomma sempre suggerisci cose poi un po' aromatizzate l'oriente e chi lo sa cos'altro ogni tanto caffè normale il classico caffè della moca piuttosto che magari possiamo invece renderlo più particolare con del rum mi viene in mente quindi anche il liquore può essere un suggerimento una bagna gustosa per poterlo accompagnare quindi in questo caso intendi dire che questa fetta di biscotto, di torta che tu hai preparato richiede precedentemente durante la lavorazione che si vada ad inserire qualche goccia di rum per esempio o successivamente in questa fase? adesso mentre stiamo realizzandolo lo bagnerei con un pochino di liquore piuttosto che magari del caffè semplicemente quindi stai preparando di fatto due tortini? sì perché bisogna festeggiare mi piaceva l'idea di farlo un pochino goloso anche perché nel capodanno magari a differenza di quanto abbiamo ricordato per la festa del Natale e altri momenti si può insomma risparmiare un po' sul menù, sugli antipasti, sui primi piatti ma bisogna davvero buttarsi sul dolce perché il dolce insomma ecco ci fa sempre felici è felici, è bello, è divertente, poi siamo tutti un po' golosi certamente, quindi ecco questi due tortini che tu hai preparato e che ora come sempre vai ad impiattare anche per rendere piacevole la vista del nostro piatto quindi eccoli qua poi andiamo a mettere sempre dei frutti di bosco per ricordare, per dare colore ecco lui è tipatico, si è girato subito ecco addirittura Marzia fa attenzione al lato del frutto che lei posiziona nel piatto quindi davvero straordinaria nell'attenzione e nella preparazione ecco i frutti di bosco che quindi sicuramente troviamo freschi in qualunque supermercato sì, riusciamo a trovarli anche in questa stagione all'occorrenza utilizzare quelli surgelati per chi non li trovasse magari all'ultimo momento in questo caso magari allora è meglio scegliere un frutto di stagione o comunque un altro frutto che magari può dare io ho voluto giocare sui toni del rosso però magari nulla vieta usare dell'ananas piuttosto che un altro frutto per accompagnare perché è bello avere la frutta fresca quindi sempre consigliamo la frutta fresca e eventualmente quella di stagione esatto, poi mettiamo la melagrana perché sappiamo che questo non mi piace ecco c'è già un elemento che non va bene Marzia con molta attenzione l'ha subito individuato e l'ha tolto dal piatto ricordiamo che anche questo insomma è un frutto che si presta moltissimo alla decorazione e quindi benvenga si presta moltissimo alla decorazione e poi anche la melagrana fa parte di quel contesto che dicevamo prima che porta fortuna porta bene, quindi a capodanno ci vuole e come sempre non manca nell'impiattamento delle tue ricette anche l'aggiunta di qualche erba in questo caso che cosa proponi? in questo caso sto utilizzando del finocchietto selvatico perché mi piaceva l'idea di abbinarlo con la sua freschezza quindi davvero bellissimo anche in questo caso questo può essere il nostro dessert di capodanno per aspettare il 2018 che mi auguro sia bellissimo assolutamente, allora torniamo velocemente perché abbiamo proprio due minuti così facciamo anche il punto su quello che è l'aspetto nutrizione di questa ricetta Giovanna che ne dici? Ti piace questo dessert? sì moltissimo perché io non sono amante di dolci ma questo lo trovo particolarmente invitante devo dire sicuramente molto invitante ma sotto l'aspetto della nutrizione che dici? sicuramente fanno un po' da padrone le mandorle che io trovo sia anche questo un alimento veramente delizioso ottimo per la nostra salute, ricco di vitamina E, di omega 3 molto spesso mi sento dire ma è calorico, sì è vero però bisogna anche saperlo dosare per cui se ne doso la quantità quotidiana sicuramente ottimo perché lavora su tutto quello che sono i metabolismi quindi colesterolo e così via è un'ottima fonte proteica e quindi io invito sempre a usare mandorle oppure anche altri tipi di frutta secca tipo noci, nocciole e così via anche nella prima colazione perché sicuramente dobbiamo pensare che la prima colazione deve essere uno dei pasti più importanti e quindi un'aggiunta di proteine è fondamentale con quale quantità? Così almeno chi ci ascolta da domani comincia subito a provare proprio perché diciamo che 4-5 noci, 6-7 mandorle aggiunte alla colazione permettono di migliorare quello che è la glicemia di tutta la mattina ma non solo grazie a un equilibrio ormonale ci toglie anche la fame un po' di tutta la giornata le mandorle hanno numerosissime come dicevo prima proprietà sicuramente la vitamina E come dicevo faceva da padrone e in questo piatto c'è anche il discorso frutta rossa viola che dicevamo insomma nei precedenti incontri ci sta bene quindi può essere uno spunto sempre per arricchire la nostra dieta di questo colore benissimo quindi insomma siamo arrivati alla fine di questo appuntamento con Angoli con questa bellissima ricetta ma siamo arrivati anche alla fine del 2017 quindi io ringrazio tantissimo Marzia Riva per essere stata in questo 2017 molte volte qui con noi ricordo chef e blogger di cucina ricordo la tua pagina facebook la taverna degli Arna ringrazio tantissimo ormai ti chiamo valore aggiunto Giovanna Perrone la nostra dottoressa medico specialista in scienza dell'alimentazione anche per lei www.smp1993.it anche lì potrete trovare le stesse ricette e anche altri suggerimenti io vi ringrazio tantissimo insomma buon anno buon anno davvero buon anno a tutti voi un bellissimo anno nuovo ma noi il primo dell'anno saremo di nuovo qui con un grandissimo puntatone quindi seguitemi sempre buon anno davvero Ciao 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 Grazie a tutti.